Quarta vittoria consecutiva, seconda di fila interna per la Dolomiti Energia, che piega 82 a 74 la Open Job Metis e sale a 22 punti in classifica. K.O. numero 2 su altrettanti incontri per Varese, che rimane a quota 16 in graduatoria. Primo periodo senza strappi, Okoye, 12 punti alla pausa, permette ai Lombardi di portarsi su più 3 al decimo. 17 a 20, i viaggianti perdono diversi palloni, 8 alla pausa e 30 con Gomes, Franke, Silins e Satton. Piazza il break, 20 a 6 in 5 minuti, che vale il più 11 l'Aquila, 41 a 31 all'intervallo. In apertura di ripresa, Shields, Gomes e Satton sono gli artefici del più 16 trento. Avramovic guida la reazione della Open Job Metis, che rientra a meno 9, poi Natali e Sendervene ricunciano ulteriormente lo strappo. Meno 5 Varese al ventinovesimo, 60 a 52 al trentesimo. In avvio di quarta frazione, Gomes, Ogg e Franke riportano a più 15 la Dolomiti Energia. Okoye, Welts, Kane e Sendervene non gettano la spugna e gli ospiti si riaffacciano a meno 6 al trentanovesimo. Shields e Satton chiudono i giochi. Meno 4 nel saldo recuperate perse per l'Aquila contro il meno 10 degli avversari. Ventello con 5 su 8 nelle triple e 8 rimbalzi per Gomes. 13 con 4 su 5 al tiro per Franke. Dall'altro lato 19 per Oggoglie. 14 e 7 palloni catturati per Sendervene.